buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video allora oggi andremo a creare insieme con la colla a caldo mi sono già preparata un po di stampi ho messo la pistola a scaldare è pronta e quindi adesso noi iniziamo vediamo un po cosa possiamo fare allora io presentando questi qua di stampi vediamo quello che succederà allora adesso c'è già dentro quella trasparente quindi io di trasparente volevo fare la panna e vediamo poi dopo andremo ovviamente a scoprirlo aspettate che sono un po scomoda ok mi sono preparata le colle ok 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 poi facciamo la conchiglietta questa sempre trasparente facciamo la conchiglietta ok sembra che tu abbia l'altra foto quindi vuoi raccontarmi con il mio tappo è un po' spaventato scherzo e lui io ho pensato dove trovarlo al centro ma lui è fuggito ok l'assistente nativo di proprio la panna e lui è sembra l'altra cosa è un po' spaventato ok poi facciamo il body il body ancora non l'avevo mai provato come stampo quindi è una buona motivazione per utilizzarlo anche se con la colla calda è un po' più complicato così fare questi stampi ecco qua ecco qua adesso la colla trasparente è quasi finita quindi io volevo fare la conchiglietta d'argento quindi prendiamo con la glittera d'argento e intanto cosa possiamo fare facciamo un dattino trasparente vediamo un po' vedete? si ok vediamo un po' ok ok poi ehm adesso ehm se avete qualche idea per qualche video che volete vedere o che vi faccio in particolare scrivetemelo pure qua sotto così così mi dicevo ehm così mi farebbe molto anche piacere capire sapere anche i vostri interessi e sto facendo un macello ragazzi ehm con sto gattino quindi quindi se c'è qualche domanda qualcosa ecco scrivetemelo anche qua sotto se avete tante domande da farmi anche magari non lo so per conoscerci per conoscerci di più su non c'è problema non c'è problema io poi comunque i commenti li leggo sempre tutti e cerco sempre di rispondere a tutti sempre ecco qua e quindi niente se avete qualcosa da da chiedermi sia riguardante alla creatività o non lo so qualsiasi altra cosa scrivetemelo pure qua sotto che io sarò felice di rispondervi magari farò anche un video a parte dove prenderò tutte le vostre domande e vi risponderò ecco qua beh dai speriamo che è venuta almeno decente almeno ma ne dubito comunque prendiamo lo stampo della conchiglia e facciamo la conchiglia ecco qua ok e niente non so più cosa cosa dirvi ah scotta ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua di ecco qua ecco qua ecco qui adesso facciamo anche il fiore di lotus ecco qui il gattino ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ok e poi volevo fare il segnalibro senza i piedi ovviamente questi due fiorellini facciamoli rossi e niente ragazzi mi si è spentata di videocamera quali improvviso non ho messo una porta ho fatto i fiorellini rossi una zampina un'altra zampina bicolore il fiocchettino giallo ho riempito anche quest'altra conchiglia ho fatto questi due disastri di zampe e un altro gattino trasparente e quindi niente quindi se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto noi ci vediamo al prossimo video anzi ci vediamo domani quando scopriamo le creazioni in colla caldo ciao ciao